ed eccoci adorate goccioline e da tanto che non facevamo uno dei nostri riassunti ma come 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 potersi trattenere oggi allora tutto nasce da una live che era stata fatta da faith in cui parlava di alcune cose private che non voglio neanche ripetere perché saranno state saranno poi dunque io le considero delle cose appunto private e a cui non mi accodo perché io ci tengo a denunciare le cose che sono pubblicamente disdicevoli oppure illegali le cose che non vanno bene per quanto riguarda come una persona si comporta se io non ho le prove io non parlo comunque è questo il punto però quella live fa centro perché parte la live di loro loro il duo tragicomico e non c'è pace allora lui all'inizio è tranquillo è tranquillo sta aggiustando i capelli insomma però subito si accorge che dunque gli utenti uno e non parla due e niente nessuno che parla io immagino di essere in lui e penso ma poraccio poraccio nessuno che scrive ma in realtà non lo penso poraccio comunque continua ad aspettare finalmente c'è qualcuno che gli dice una parola e finalmente lui pensa ah si potrà cominciare non sa che inizia l'incubo l'incubo perché arriva il primo troll e gli chiede qualcosa appunto di ciò che ha detto fate a proposito della della loro permanenza del loro soggiorno di questa estate perché era questo tutto il tema di cui si parlava niente lui fa finta di non vedere di non sentire non capisce perché siano fatti questi continui cendi a questa vacanza dice addirittura è assieme alla suocera non hanno niente da fare si rivolgono a cose del passato ma comunque niente ci prova a trovare un argomento ma che argomento vuoi trovare se non si parla di mangiare e se non si parla di caldo e se non si parla di mezza stagione di che vuoi parlare e infatti continuiamo a bannare si banna si banna si banna con la signora vicino che boh grazie a sua che ne so oggi si ricorda addirittura di un utente che da tanto tempo non si faceva sentire si mette a parlare di scanilate le gradine si possono fare duemila gradini lui ci tiene a dire ma guarda che non sono duemila metri comunque mentre sta andando così si alza lei la regina di sto quarto e si mette a parlare così del più del meno quando avviene all'improvviso l'indicibile il dramma si sta consumando davanti ai miei occhi lui confuso da tutto quello che accade non lo so perché non sa forse che cosa rispondere perché non sa che cosa dire gli scappa no 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 per quello si alza e se ne va senza problemi gli scappa un nome e sì tenetevi forte il nome è quello faith lo dice due volte scusatemi se rido ma in realtà io avevo provato tanta compassione diciamo per come cercava di districarsi dal problema di troll che arrivavano se ne andavano poi ce l'avevano con la moderatrice non ce l'avevano lui che provava a cercare cercava aiuto aiuto lo cercava poi dalla suocera capirai capirai è la tua peggiore troll quando improvvisamente quella fate e attenzione davanti alla moglie è ripetuto due volte immediatamente non sa come scusarsi dice ma no 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 guarda no allora io non sapevo che cosa pensa lei non risponde io immagino già lui che si va incenerendo piano piano da solo e lei no lei si limita a guardarlo lui ancora cerca giustificazioni ma ecco che la parola buona ce la mette anche la sua cera dicendo non cerca non provare a cercare giustificazioni assumiti le tue responsabilità assumiti le tue responsabilità e lui rimane così perché sì in effetti l'ha detto ma non voleva dirlo intanto arriva una parola buona una parola amica da un utente che dice ma no può capitare e lui si sente finalmente compreso e dice sì sì può capitare si sente lei in sottovoce dire vergogna ti va adesso no non lo so diventiamo sei lo denuncerà per questo cioè stiamo parlando di una grave crisi familiare intanto lei per non dare soddisfazione a chi a noi noi eter che di tutto stiamo lì attenti a notare quello che dicono loro vorrei precisare quello che dicono loro noi facciamo notare ecco lei prova a cambiare discorso no ma lo vorreste uno spoiler sulle serie ma ma che c'è ecco lui non capisce che dovrebbe dire sì è quello che te lo sta chiedendo vuole che sia cambiato il discorso e che cosa può rispondere se no no non mi va no sbadiglia pure lei vabbè come al solito se ne frega della volontà di tutti e no c'è uno in effetti che ci tiene da sapere lo spoiler e ci dice che sono delle sedie bellissime che arriveranno dopo il tracking perché c'è il tracking e queste sedie meravigliose fanno dire alla madre la suocera mamma mia meglio che mi cerchi in altra casa l'amano l'amano tutti come si fanno la madre del resto quel suo gusto e soprattutto i suoi interventi perché poi la madre al solito no decide di far sentire ad un utente tutta la sua autorità ma lei è un'educatrice lo sapete che la riempirebbe a ceffoni detto da lei e la la figlia subito la regina di sto quarto mamma ma cosa stai dicendo ora io dico ma voi ce l'avete tutti con loro perché non è possibile non è possibile sta donna e da una parte senta la madre che dice queste cose e lei anzi le ha pure proposto di andare assieme da qualche parte non si sa dove ma da qualche parte andranno attenzione andranno da qualche parte poi il marito che pronuncia quel nome e per ben due volte o io non lo so io incomincierei a cercare dove andare tua madre può essere che tua madre ti dia asilo politico perché a suo punto non lo so e comunque ci provano a cambiare discorso ad essere di nuovo come prima la signora lusi lusi si fa ancora notare per stavolta i genovesi i genovesi che sono attenzione di prima mano ma è rimasta alla macchina che si deve vendere è rimasta a quei tempi ancora e i passaggi di proprietà che non si fanno non lo so vi dico la verità ma proprio sono sincera 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 poi vabbè si chiude a 40 minuti e lui finalmente non so se si sarà stato contento che a quel punto arriva la ramanzina da parte della moglie ma come ti sperimenti ma lo faccio per te amore mio vabbè stavo dicendo io veramente durante questa live di 40 minuti ho provato a in dei momenti tenerezza perché non è possibile che ogni loro gesto sia messo sotto la lente di ingrandimento soprattutto quando le prove non ci sono io la penso così se ci sono le prove di un comportamento che sia stato sbagliato allora parli se non ci sono non parli perché immaginare che qualcuno se ne sia andato e che poi sia stato in un momento in cui era in crisi con i so sono cose anche private e non sono dell'idea che se ne debba parlare di cose private di cui non si hanno le prove questo è il mio modo di pensare voi pensatela come vi pare questo è il mio quindi ero già dalla loro parte ero pronta a non dire niente io non volevo dire niente niente perché non è possibile però poi a quel a quel nome pronunciato due volte e alla reazione di lei della moglie io non ce l'ho fatta più e scusatemi non ho resistito dovevo condividere con voi questo momento perché rimanga come ricordo di quello che abbiamo visto che io ho visto e sentito e potremmo dire ai nostri nipoti un giorno noi c'eravamo grazie per la vostra attenzione la vostra compagnia baci 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 non divento seria baci 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 ciao bal tribe ba Um...